Clamorosa svista arbitrale in Torino Juventus. Sul risultato di 2-1 in favore dei bianconeri è stato annullato un gol regolarissimo a Maxi Lopez. L'episodio incriminato è avvenuto al 57esimo. L'attaccante Granata, servito in aria, batte Buffon con una conclusione da distanza ravvicinata. Rizzoli, su indicazione del suo assistente Tonolini, non convalida la rete. Le immagini televisive fin da subito però sconfessano la decisione arbitrale. Al replay è risultato chiaro che Lopez fosse tenuto in gioco dal colombiano Quadrado, che nell'azione contestata si era attardato a salire.